ciao a tutti squali e pezziolini sono mami di degli italian sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo blog siamo in compagnia di emanuele 98 e di peperotto che fa rima con sto cazzo no ragazzi non lo direi ma se non lo dire se lo sapete scrivetelo questo qui 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 qua sotto vedete dove ci sta il mio dico dove ci sta aspetta il mio ditino così scrivete peperotto fa rima con ragazzi no figata figata trovate tutte le rime con cui far rima peperotto e scrivete nei commenti figata sì 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 trovate una rima che fa rima lo dobbiamo cliccare infatti non c'è niente il mio nome è irrimabile comunque ragazzi benvenuti in questo vlog lo scorso blog era sul ripescaggio oggi parleremo di cose interessanti vi faremo un annuncio a fine video importante quindi seguiteci fino a fine video e cominciamo da quella che la domanda che ci ha posto peper nei commenti e poi definiamo qual è la domanda per devilman a cui risponderà nel prossimo vlog perchè in questo momento non è sul tss sicuramente si voglio aspetta non quale quale era la domanda davidman sei vargine no no non so quale sei vergine davidman sei vargine quindi devilman se ci stai seguendo rispondi pubblicamente a questa domanda o se no ti veniamo ti verremo a prendere per le orecchie risponderemo la settimana prossima e capricorno e capricorno quindi è cornuto va bene va bene va bene ora vogliamo rispondere a quella che la domanda che ci ha fatto il nostro grande peper scassa c'è il nostro più carino ci avevi chiesto un peper rifarcelo dai dicci in diretta che ci avevi chiesto dai il vostro piatto preferito e cosa vorreste mangiare ogni giorno cavolo e mamma so due domande non so se ce la faccio a rispondere a tutte e due va bene allora rispondo il mio piatto preferito è pasta al forno ragazzi cosa vorrei mangiare tutti i giorni non è la pasta al forno io vorrei mangiare tutti i giorni giapponese no vorrei mangiare tutti i giorni giapponese no il contrario la pasta al forno mi farebbe un buco così nella pancia giapponese mi fa stare bene perché pesce e riso e verdura pesce crudo gamberi che si muovono pesci che nuotano vabbè ok avete capito insomma vai e ma rispondi tu io mi metto un po no mi piace il pesce no i pesci e gli uccelli con i peli comunque se volete sapere a me cosa mi piace pure a te piace il pesce allora c'è david c'è david c'è david c'è david oh grande colpo di scena david 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 ci sei rispondi si vergine devi rispondere alla domanda quella dell'altra volta che ti fece bepa no no siete sbacciati ti tocca david dai 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 l'hanno scelto gli iscritti ci stanno aspettando tutti i nostri iscritti lo vogliono sapere ti tentale di l'attimo o un'ultima forma bene continuo ragonto il mio piatto preferito è indovinate ma miglio mai donata a incontro campane questo è un attimo a confabile chiuso e persino perfect ho scelto pomerò dopo CrossES 26 grazie l'esfilled ok scherzo ci sono me ne siamo andati tutti va bene ok voi cosa vorrei mangiare tutti i giorni tutti i giorni vorrei mangiare la vita vabbè vabbè no 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 va bene nel prossimo vlog non ti preoccupare non scampi non scampi non scampi no 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 nel prossimo vlog già in sto vlog ne diremo tante non ti preoccupare ti insulteremo facciamo un video contro di te comunque ragazzi è devilman3501 andate a vedere il suo canale e bombardatelo di commenti e chiedeteli di rispondere alla domanda che insomma le abbiamo fatto ha risposto ha risposto che cosa ha detto secondo me questo può vabbè ci mancherebbe tu sei l'unico pirla che non lo farebbe no io lo farei ma senza poter non poter mi sta piangendo pensavo fossi ancora puro va bene David non ti preoccupare nel prossimo vlog ti faremo altre domande sconti ah è vero tu sarei tipo manichini oh Emma allora cos'è che ti piace mangiare tutti i giorni è morto Emma no Emma sta piangendo mazzini come sta piangendo mi piace allora io andrei avanti censurerei Emma facciamo così facciamo vedere vediamo se è aperto il mio si facciamo vedere siamo a turno canale perché oggi ragazzi è la fine del mese e quindi dobbiamo onorare quella che è stata la nostra promessa ok ragazzi abbiamo dovuto tagliare il video perché stava laggando a bestia siamo sul nostro canale a fare quella che era l'appuntamento di fine mese se vi ricordate quindi onoriamo la nostra promessa appuntamento di fine mese si ma mentre c'è l'appuntamento ogni mese ogni mese c'è l'appuntamento va di bagno ok quindi mostriamo qual è l'iscritto del mese signore e signori a differenza di quelle che erano le aspettative è Paper Peperozzo che fa rima con è al terzo posto cioè Peperozzo è al terzo posto e subito avanti a lui c'è il Luke Evolution e al primo posto c'è Federico Dotti aspettiamo comunque la fine come potete vedere Federico non lo so se Federico è Dotti o Dotti è Federico dotti sto dubbio Dotti Federico eh Federico Dotti Dotti Federico cioè spiegaci facci sapere rammentaci questo dubbio e facci sapere scrivi due parole nei commentini vedi un po' e vi ricordiamo che se superavate Paper entro la fine del mese quindi attendiamo ancora la fine del 28 febbraio e quindi per domani che uscirà questo vlog noi sapremo esattamente chi è al primo posto e lo pubblicheremo su Facebook Twitter e Google Plus eh c'era doppio doppio premio quindi due video o due mesi con noi eh ma cioè ti immagini ti immagini se viene uno peggio di Paper a fare due mesi con noi ma tu ti rendi conto che scleriamo cioè chiudiamo il canale eh sì per forzo bene eh e ti immagini un'altra cosa cioè noi stiamo per cominciare una serie che neanche neanche tu che stai guardando sai ancora stiamo per cominciare una serie del genere e tu potresti avere la possibilità di retcare per due mesi con noi di fare video insieme a noi in questa serie ma vi rendete come sì ma Paper può farlo sempre dunque no Paper verrà censurato cesurato Paper verrà cesato ma che sei ma tu non sei un coso non sei un coso no sono un essere umano per fortuna no tu senti mente ti è ragazzi ci siamo Paper in real life ma non mi carriare tu non carri nessuno comunque ascoltami un attimo tu che tu che sei tu tu che sei qui davanti a questo schermo sappi che il mese prossimo potresti essere tu il primo e l'iscritto del mese e sappi anche che potresti avere un video completamente dedicato su di te cioè questa cosa ma ci rendiamo conto o conto ci rendiamo eh o conto ci rendiamo un video solo per te ridillo Emma ridillo un video solo per te un video solo per te ho fatto la finta di parlare mentre capito ho fatto la finta di parlare niente ragazzi quindi questa grande notizia come ricominceremo la Pixelmon sul nostro canale abbiamo trovato un server italiano sp gestito da gente italiana sono dei bravissimi ragazzi quindi a presto ci vedremo è vero no non è vero poveri sono gente sono gente sono gente cheat paper quindi tu che stai guardando insomma preparati vienici a seguire sul server perché ci divertiremo un casino cioè per chi ci ha già seguito sa che cos'è ve lo dovrete guadagnare l'IP ragazzi ve lo dovrete guadagnare non è vero lo mettiamo in descrizione ma perché mi sciottano tutti ma mi iniziano incazzare no non stiamo giocando noi no 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 non fate non state giocando va bene ragazzi allora chiudiamo questo chiudiamo questo vlog ricordandovi che quindi domani ci sarà l'elezione dell'iscritto del mese che cominceremo una nuova serie sulla Pixelmon e anche un'altra serie di piccoli spezzoni di video da pochissimi minuti sarà una figata anche quella quindi vienici a seguire anche lì abbiamo il TS ufficiale lo trovi sotto ogni video ok e ci vediamo sui social google plus facebook e twitter quindi a presto ci vediamo nel prossimo vlog ciao ciao ragazzi